Buongiorno ragazzi, oggi voglio presentarvi la mia suite al Four Season Qua ora siamo nel corridoio, siamo al terzo piano Ora andiamo subito alla mia stanza che è da questa parte Qua ci sono le altre stanze, ma qui c'è la suite del Four Season Entriamo subito e ve la faccio vedere Ok, eccoci qua L'entrata è già questa Qua abbiamo già il salotto, abbiamo un divano, due poltrone Tavolino con ciliegie Penso che sia da mangiare, non sono, sono da mangiare Proviamole Sì, si andrà a mangiare La schifezza la buttiamo via, siamo per adesso qui Qua abbiamo anche un bigliettino con Ah, qua c'è anche un regalino delle maddalene Ok, magari dopo ce le ordiniamo Comunque, in questo caso poi qua c'è la tv Qua sotto abbiamo tazzine per il tè, eccetera Si presenta così questa prima parte della suite Da qui possiamo aprire le tende Così da vedere anche la vista Qui dal terzo piano che non è delle migliori Però vabbè, è pur sempre qualcosa Da qui abbiamo una scrivania interessante E poi qua abbiamo tutta la zona del caffè Eccetera, qua macchinetta della Nespresso Qua dentro abbiamo tutti i vari cafferini Interessante, qua c'è come sempre Strigobar Abbastanza, anzi direi parecchio Rifornito Di qua abbiamo Di qua non si apre, non si apre Ah, si ha cassaforte Con lì altre cosine lì sotto Interessante Qua abbiamo diverse tipologie di tazzine Caffè corto, caffè lungo Questo qua per i cocktail Qua diverse poi tè Qua bull per il ghiaccio Qua degli snack di cui uno ho già mangiato Ma che ho subito buttato purtroppo Perché non mi piace veramente per niente Che sono noci piccanti Quindi vabbè, no Questa bella acqua che ho già aperto Qua abbiamo anche addirittura Quattro vacche che vengono fornite Da questa prospettiva si vede in questo modo Unica pecca che appunto c'è la stazione proprio qui Vabbè, potevano mettere una suite Un pochino più alta Vabbè, poi comunque alla fine vi dico anche il costo Di questa suite qua Quindi preparati perché ascolta le video fino alla fine Perché ti dirò anche il prezzo Andando giù di qua Troviamo questa statuetta E qui il letto Qua c'è un simpatico armadio Che si apre in questo modo Ok, ci sta vuoto Ovviamente per mettere i vestiti Eccetera, quello che è Proseguendo appunto abbiamo quindi la stanza Che è questa Anche qua in ugual modo abbiamo Una tenda che si può aprire tranquillamente dai pulsanti Che si trovano a fianco al letto Qua infatti possiamo cliccare su open E vedremo la tenda che si apre in quel modo Qua abbiamo una poltrona E qua un telecomando per la tv Che è esattamente lì Qua, niente, c'è un sacchetto che è roba mia Qua dei libri Qua abbiamo poi una cassettiera Con pigiama Taglia M Taglia L Qua, questi qua sono delle buste Che è di tela Per cui fare la laundry Quindi la lavatrice Qua vi insegni Tutte le cose che hai da lavare Che hai da lavare E a fianco ci sono i vari prezzi Costa veramente tantissimo ragazzi Quindi io comunque Vabbè, non ho bisogno di lavare niente Per adesso Qua vuoto Forse anche l'altro era vuoto Qua cosa che abbiamo Oddio Cavetti, cavi, cavetti Eccetera Vabbè Comunque Posso dire che Cioè Solitamente Le altre tipologie di stanze È solamente questa parte qua Cioè È il letto Qualcuna Ha anche La seggiolina Qui La poltrona Però Altre camere Ancora più economiche Come ben sapete Hanno solamente il letto E il bagno Ora infatti passiamo al bagno Ah no Prima c'è una roba incredibile Che devo far vedere Cioè spettacolare Che Da qui Da questa parte della stanza Questa Cosa qua È scorrevole Cioè me ne sono accorto Perché a tutto questo Cosino qua No È scorrevole Infatti ho questo Per sopprenderlo Ed è una porta Che chiude Praticamente L'area Living Dalla Camera da letto Cioè Spettacolare Ah Giusto qua Mi hanno preparato anche le ciabattine Gentilissimi Quelli che fanno appunto Le varie pulizie Il cleaning room Comunque questa qua È la vista Che si ha da qua Infatti appunto Come vedete Non è una delle migliori Visto che vedi i treni Vedi anche Lo skyline Un pochino Ma Vabbè Di Tokyo Ma Comunque Carino È bello Però comunque Al primo buco davanti Proprio c'è la stazione Vabbè Passando in questo corridoio Si arriva direttamente Al bagno Bagno Molto Molto Bello Abbiamo Doppio Lavandino Così che avete Se avete la fidanzata O il compagno La compagna Eccetera Non dovete Litigarvela Qua ci sono io Hey Qua per ognuno Ci sono esattamente Le stesse cose Come anche Per esempio In questo caso C'è anche il colluttorio Listerine Due sudomanini Quei qua avevo Il mio spazzolino Con la pulizia Per i denti Eccetera Che ti vengo Viene fornita Ora lo vediamo E qua c'è Il telecomando In ugual modo Perché anche qua Serve per aprire E chiudere Le tende Quindi non starmo qua Aprire e chiudere Eccetera Tanto è Qua c'è una vasca Veramente Veramente grande Carina Sulla vista Peccato che la vista Punta sempre sui treni Però comunque Immaginate che magari Siete Non so Al ventesimo piano Anche se in realtà Qua i piani Sono al massimo sette Quindi diciamo che Vabbè Sette piani Potevano farlo Magari di 15 16 Visto che comunque Lo skyline di Tokyo È altissimo Un pochino più alto Potevano farlo Se avete visto I miei video di Osaka A Ritz Tanta tanta roba Vi consiglio di andare A vedere quel video Anzi ve lo metto Qua tipo in alto a destra Qui Se riesco E così Potete darmi Lo vedo Comunque lo trovo sul canale In cui ero Mi pare al dodicesimo Mi ricordo Il Ritz C'è una vista Incredibile La vista più bella Che abbia mai visto Da un hotel Comunque In questo caso Continuando il tour Qua abbiamo Per le donnine Uno sgabellino Dove c'è Puttato Va bene In qualsiasi caso Niente Dai Gliela perdoniamo Qua abbiamo Tutte le varie Cose Fornite in omaggio Qua appunto Dentificio Kit dentale Che appunto Vi ho fatto vedere prima Qua la cuffia Per i capelli Qua c'è Il showing kit Quindi per farvi la barba Eccetera Qua un pettine Questa qua È una spazzola Questo qui È per la struma da barba Qua avete il dentificio In bustina Cotton fioc E questo Sempre per le orecchie Cotton pad Dentificio A me non piacciono Per niente Questi qua Di legno Perché vi assicuro Che C'è Sanno Di legno Quando ve li mettete in bocca È una cosa che Io personalmente Non sopporto Mi vanno benissimo Quelli di plastica Quelli mi piacciono Veramente un sacco Comunque In qualsiasi caso Continuando il tour Quella è una doccia Molto spaziosa Mi piace un sacco Ora Eccola qui È veramente Veramente Spaziosa Se rende Ma comunque Veramente grande Meglio se era Qui a vetrata Da poter vedere fuori Ovviamente che Tu possa vedere fuori E che gli altri Non possono vedere dentro Quello perché Sarà un problema Però mi sarebbe piaciuto Una roba da vedere fuori Sarà stato molto molto bello Poi qua Abbiamo ovviamente Il WC Io anche qua Mi aspettavo qualcosa di meglio Visto che comunque già I WC giapponesi Sono molto tecnologici Qua appunto Sono varie impostazioni Eccetera Ma solitamente Negli altri hotel Se vi guardate appunto Il video Del Ritz La tavoletta Si alza da sola Cioè E in più Poi quando ti alzi Lo sciacquone Va da solo Invece qua Devi premerlo addirittura Di lato Non c'è neanche il pulsante Qua Ci dà di lato Vabbè Questa cosa Non è che mi garba Granché Però comunque Il bagno è veramente Veramente Molto bello Molto spazioso Qua tutto perfettamente In ordine Qua c'è Le sciogamani Che qua Due accappatoi Qua avete addirittura Che qui Una tv In bagno Va bene Poi qua ci sono Armadi Anche qui Qui armadio Qui armadio Ah un altro sacchetto Molto bene Perché Mi è sicuramente Utile Per portare a casa I souvenir Tanto che infatti Anche là Come vedete C'è un altro sacchetto Del Sempre del Four Season Dove ho riempito Con tutti I vari Gingilli Souvenir E quant'altro Comunque Da Quest'angolo qui Che ci metto qua La camera Si presenta In questo modo Qui Veramente Veramente Enorme Non so se rende Dal video Ma ragazzi Vi assicuro Che è Enorme Soprattutto A me piace molto Questo passaggio qua E il passaggio Che poi ti porta Direttamente Al salotto Anzi qua Magari lo apriamo Così Rende anche un pochino Di più Qua porta scorrevole Cioè Casa mia mi basterebbe Comunque una cosa Cioè mi piace un sacco Anche come averla Tipo come casa mia Vabbè Qua una cosa Un reparto segreto Che mi sono spaventato Perché tu apri qua Pum E ci sono io E uno specchio La prima volta che l'ho aperto Mi sono spaventato Perché questa è una persona Che cacca ci fa uno qua dentro Vabbè E sono io Vabbè Mi spavento Della mia faccia Vabbè No buono Però tornando appunto Quindi sul salotto Eccoci qua Comunque sì Direi che Questo è Abbastanza Tutto Questa è Come si presenta Una suite Del Four Season Veramente Veramente Gigante In questa suite Io ci sto rimanendo Due notti Che purtroppo Sono le mie Ultime due notti In Giappone Dopodiché appunto Tornerò Alla mia base Dove vivo A Londra Il costo Per una camera Del genere Una suite È di 1500 euro A notte E Sono tanti soldi Però Va bene così Non è sicuramente Una cosa Che puoi fare sempre E che puoi fare Tutti i giorni Prattutto anche Da giovane Perché diciamo Che in questa tipologia Di hotel Anche la fascia media Di età È dai 40 anni In su Diciamo che io ho visto Mediamente Una Media di 40 anni Di età Intorno a quella Roba lì Sotto i 30 anni Non ho visto Nessuno Nessuno 35 36 Qualcuno Ma Oggettivamente Molto raro La maggior parte Hanno una media Di 40 Tra i 40 E 50 anni E in realtà Giustamente Perché è Una certa età Che hai già creato Qualcosa Delle aziende Delle start up Sei già un imprenditore Di conseguenza Puoi andare A permetterti Degli hotel Di questa tipologia E stanze Poi di questa tipologia E non tutti Comunque si possono Permettere stanze Così perché Ovviamente Non ci sono tantissime Nell'hotel Maggior parte Delle stanze Ovviamente Sono stanze Molto più Economiche Che comunque Hanno un costo elevato Perché siamo Al four season Quindi un hotel Di alta gamma Quindi diciamo Che non tutti In qualsiasi caso Riescono A permettersi Hotel del genere Oggi Ultimo giorno A Tokyo Pubblicherò Comunque Altri video Soprattutto Soprattutto Niente Perché Iscriviti al canale Attiva la campanella Perché così Ti arriveranno le notifiche Di quando usciranno I prossimi video Ma sicuramente Uno dei prossimi video Sarà il mio viaggio In first class Per andare a Londra Perché viaggerò In first class E sarà un'ottima E sarà un'ottima first class Visto che comunque Viaggio con British Airways Ma comunque È un volo intercontinentale Quindi non è una first class Come quella che ho avuto Durante i voli nazionali All'interno del Giappone Per andare a Okinawa Per tornare a Tokyo Chi mi segue su Instagram Ha visto Però beh Vi farò un video In specifico Sulla first class Di British Airways Che anche lì È una roba Abbastanza esclusiva Perché è il top Per quanto riguarda Un volo E mi pare che ci siano 12 posti In first class Qualcosa del genere Poi entrerò nel dettaglio Nel video Quindi iscriviti al canale Mi raccomando E ci vediamo Al prossimo video Spero che ti sia piaciuto questo Metti un bel like E ciao